Tre progetti pilota per cominciare una grande progettualità sulla montagna, richiesta all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, cominciamo con il Piemonte, l'Emilia Romagna, l'Abruzzo, ma poi saranno 30 green community in tutto il paese, questo per realizzare una strategia nazionale sulla montagna, per contrastare lo spopolamento, per favorire i servizi in montagna e anche nuovi strumenti di finanziamento dei piccoli comuni come i certificati forestali. Il dissesto idrogeologico, la necessità di manutenere questi territori, ma anche il turismo sostenibile, la gestione integrata dell'energia e anche delle risorse idriche. Insomma un'attenzione a questi territori da troppo tempo dimenticati.